Questo è il Teramo che vuole Guidi, un bel passo deciso in classifica ai fini della salvezza? Sì, ma tutte le partite sono complicate, difficili, come vi ho detto tantissime volte, anche i risultati di oggi. Il Montevarchi sembra che sia la scenerentola del campionato, invece ha vinto anche oggi. C'è il regno all'equilibrio, tutte le squadre possiedono delle qualità, delle grandi risorse, è un girone complicatissimo e quindi sappiamo che ogni partita è veramente livellata e può essere decisa da un dettaglio. Oggi si evinceva dalla panchina che c'era grande attenzione in ogni situazione e quindi è questo lo spirito per raggiungere la salvezza sicuramente. Volevamo dare una risposta a noi stessi in primis perché è chiaro che, come vi ho detto nella conferenza pre-gara, con il Montevarchi potevamo fare tanto di più e non siamo riusciti a farlo e quindi su questo abbiamo battuto e penso che dal punto di vista caratteriale e temperamentale oggi la squadra ha risposto in maniera positiva su un campo che c'è da ricordare che la Fermana su questo campo in casa non perdeva dal 19 settembre. Quindi questa radice lunga sul coefficiente di difficoltà di questa partita. Una grande prestazione anche di Mordini, diciamo in linea con la squadra, un teramo cinico, concreto, che ha trovato il vantaggio e poi l'ha difeso a denti stretti. No, sapevamo che era un campo difficile, soprattutto io lo sapevo benissimo, che qua non perdevano da mesi. E quindi sapevamo anche che era una gara dura, dove ci sono tante botte, la palla spesso è per aria. Però noi abbiamo saputo battere colpo su colpo e soprattutto dopo il vantaggio abbiamo tenuto bene. Mi ricordo solo un'occasione creata sul finale che ci poteva costare cara, ma l'episodio fortunatamente è venuto dalla nostra parte e quindi sono molto contento perché la squadra ha risposto molto bene.